Banca di Teramo Il comitato dei soci scontenti accusa Tassi usurai ai clienti E c'è chi minaccia vantando coperture Ludopatia Teramo terza in Italia Per la piaga del gioco d'azzardo Ambiente, fiumi e depuratori sono punti critici Lo dice la forestale Pronti i rapporti alla procura Cronaca a fuoco abitazione a Sant'Omero Un vigile del fuoco si uschiona nell'intervento Port Calcio Il Teramo verso la sfida con la Reggiana Rischia di perdere la Padula Buongiorno e benvenuti al telegiornale di Teleponte Torna a esporre critiche contro la banca di Teramo Il comitato dei soci scontenti Accuse durissime ha lanciato il portavoce Pasquale di Ferdinando Secondo il quale sono partite procedure penali Per denunciare l'applicazione di tassi di usura Da parte dell'Istituto di Viale Crucioli Ma anche segnalazioni di sottoscrizioni di quote In cambio di finanziamenti e possibilità Di svolgere stage formativi Ma l'accusa più pesante è rivolta verso le dichiarazioni Di alcuni componenti del CDA della banca Il servizio Pasquale di Ferdinando Presidente dell'Associazione Robin Hood Portavoce del comitato dei soci scontenti Della banca di Teramo Questa volta lanciate nuove ombre Sulla gestione del credito da parte della banca Accuse pesantissime Di che si tratta questa volta? Sì, diciamo Il comitato è stato considerato come un comitato Di persone che non sono affidabili Che quindi siccome gli erano stati richiesti i crediti indietro Diciamo stavano tra virgolette infangando la banca Oggi siamo di fronte a delle cose molto pesanti Ci sono dei consiglieri che vandano Diciamo Nei confronti di alcuni soci hanno detto Che vandano coperture da parte della magistratura E da parte di Banca Italia Cosa gravissima Abbiamo contezza che i finanziamenti venivano dati A molti chiedendo in cambio l'acquisto di quote Quindi venivano richieste le quote sociali Per poter avere poi il finanziamento Così pure molte persone hanno acquistato le quote Per poter poi partecipare E avere la possibilità di partecipare All'istage informativo all'interno della banca Alcuni soci hanno avviato anche delle azioni legali? Sono già delle azioni legali Noi ne stiamo curando altrettante Diciamo siamo solo attorno ai 14 soci Avvieranno pratiche per quanto riguarda l'usura bancaria Che ricordiamo è un reato di carattere penale Poi abbiamo anche come sembra degli scondenti Rilevate altre situazioni Diciamo c'è una questione di carattere etico Per quanto riguarda la presenza nel consiglio di familiari C'è una questione etica per quanto riguarda la presidenza di Chiodi Che è un revisore E nel consiglio di amministrazione c'è un suo socio Che è Carmen Tancredi Gli abruzzesi giocano d'azzardo La nostra regione è la prima in Italia Per quanto riguarda la diffusione della ludopatia La provincia di Teramo è terza Il servizio L'Abruzzo è la prima regione in Italia Per quanto riguarda il gioco d'azzardo Teramo è invece la terza provincia Mediamente un teramano si gioca circa 2000 euro l'anno pro capite Sono i numeri drammatici diffusi dall'associazione Il Raggio Che per il 20 novembre ha organizzato a Teramo un incontro sulla ludopatia Con la presentazione del libro Vita in gioco di Carlo Cefaloni In quell'occasione tutti i comuni della provincia di Teramo Firmeranno un protocollo di intesa Con il quale si impegneranno a deliberare un regolamento Che andrà a limitare l'apertura delle nuove sale slot su tutto il territorio provinciale Tutti i sindaci della provincia insieme ai rappresentanti della regione della provincia di Teramo Firmeranno un protocollo di intesa Con il quale si impegneranno a deliberare un regolamento Che andrà a limitare l'apertura delle nuove sale slot su tutto il territorio provinciale Sono coinvolti tutti i comuni della provincia di Teramo? Sono coinvolti tutti i comuni Abbiamo già fatto un incontro con loro Si sono detti contentissimi Stiamo lavorando alle modifiche di questa proposta di delibera In modo che tutti insieme andiamo poi a deliberare la stessa proposta Insomma non avremo degli squilibri sul territorio Triste primato per l'Abruzzo Che è la prima regione in Italia per gioco d'azzardo La provincia di Teramo è addirittura terza La provincia di Teramo è la terza Provincia in Italia per la diffusione del gioco d'azzardo Comprendendo Grattevinci, Slot Machine e altre diavolerie Quindi questi dati ci hanno fatto pensare come associazione culturale Di fare qualcosa di concreto nei limiti del possibile Quindi presentare un libro che tratta questo argomento Vita in gioco, editore a Città Nuova Che poi per noi è stata l'idea di allargare il discorso Anche ai sindici della provincia Proprio per poter porre in essere delle regole Delle limitazioni a questa diffusione perversa E adesso la cronaca Forse una sigaretta lasciata inavvertitamente accesa Potrebbe essere la causa dell'incendio Che questa mattina ha danneggiato Un appartamento in via Duca d'Aosta a Santomero Nel corso dell'intervento di spegnimento delle fiamme Un vigile del fuoco del distaccamento di Nereto È rimasto ustionato, per fortuna leggermente, al collo Subito soccorso dai colleghi È stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Valvibrata E qui medicato Guarirà in pochi giorni Il rogo è divampato Mentre il proprietario dell'abitazione non era in casa Il fumo è stato notato da alcuni vicini Che hanno dato l'allarme E chiesto l'intervento dei pompieri Che sono stati impegnati con il fuoco per quasi due ore I danni dell'abitazione sono ingenti Vendeva marijuana ad un amico Ma è stato sorpreso dai carabinieri Che lo hanno bloccato Sequestrandogli anche lo stupefacente Il protagonista è uno studente minorenne santegidiese Che i militari stavano seguendo da un po' Dopo alcune segnalazioni È stato notato mentre cedeva una dose di stupefacente E questo ha permesso ai carabinieri Di perquisire la sua abitazione Dove sono stati trovati 40 grammi di marijuana E anche piccole dosi di anfetamina Il magistrato della procura del tribunale dei minorenni Ha disposto per lui la misura cautelare Della permanenza a casa Sono fuori legge i depuratori in provincia di Teramo Lo sono nel 91% dei casi Perché presentano emergenze Non compatibili con l'ambiente Lo dice il corpo forestale dello Stato Che oggi alla presenza del comandante regionale Il generale Ciro Lungo Ha incontrato il procuratore di Teramo Antonio Guerriero e i suoi sostituti Rosati e Giovagnoni Fornendo loro un quadro abbastanza allarmante Che si tradurrà in un complesso Lavoro giudiziario e servizio È critica la situazione dei depuratori in provincia di Teramo Perché la maggior parte di essi Non è in grado di esercitare appieno La propria funzione di filtro È quanto emerge dallo studio Che il comando provinciale del corpo forestale di Teramo In collaborazione con l'Arta Ha condotto sui 102 punti idrici del territorio Tra le altre verifiche Quella che ha interessato i 58 impianti di depurazione locale Hanno evidenziato la presenza Nei campioni di analisi Di elementi di natura organica Incompatibili sotto il profilo dell'ecosostenibilità In oltre il 91% dei casi I risultati illustrati dal colonnello Guadalberto Mancini Saranno oggetto di una informativa alla magistratura Che avvierà una serie di approfondimenti sui diversi casi I fiumi del Terramano purtroppo hanno un po' di temperatura alta Nel senso che soffrono di alcuni mani indelici I leciti per il momento abbiamo fotografato Una quantità di profili di irregolarità Che sono sia in campo amministrativo che non E ovviamente questi quelli che finiranno sul tavolo del signor procuratore Ovviamente saranno non quelli amministrativi Lo stesso procuratore ha annunciato l'istituzione di un apposito gruppo investigativo Formato dalle forze dell'ordine territoriali Con compiti di controllo ambientale E un sito internet in cui i cittadini Potranno interagire con i magistrati Per le segnalazioni di inquinamento ambientale Noi siamo, lo assegna la Costituzione L'estrema razio Nel senso che noi incidiamo come reati Sulla onorabilità, sulla libertà dei cittadini E quindi noi non svolgiamo nessuna funzione Come dicevo prima, fisiologica di controllo del territorio Vogliamo che siano le autorità amministrative preposte A livello comunale, mandamentale, provinciale A svolgere quotidianamente questo controllo Ma se loro poi non svolgeranno questo controllo in modo adeguato Dovremo, o dovessero esistere delle ipotesi di reato Approfondire e ad accertare La Fondazione Tercas ha chiamato a raccolta enti e associazioni Per presentare le linee degli interventi 2015 Nel corso di un workshop informativo In cui ha spiegato anche alcune novità Per la semplificazione delle procedure Nella presentazione dei progetti La parola d'ordine è mettere insieme le risorse Da canalizzare ai progetti Per razionalizzare gli interventi Ogni singola attività sarà valutata Da un centro di monitoraggio in termini di impatto sul territorio Ricadute socio-economiche Il servizio Presidente Nuzzo La Fondazione Tercas rilancia il suo ruolo di proporzione sul territorio E presenta oggi pubblicamente le linee di intervento per il 2015 Questo per due ragioni concorrenti Uno, dobbiamo prendere atto collettivamente Del fatto che la crisi ancora non si è conclusa Questo ha ridotto le risorse complessive Che sono spendibili sul territorio Perché per i blocchi normativi Ha ridotto le quantità di erogazione A questi fini degli enti locali E quindi concentra sulla Fondazione Molto la responsabilità Ancora di più la responsabilità Di sostenere le attività di volontariato Di culturali Di ricerca, di formazione Che ci sono sul territorio Questo comporta che noi Dobbiamo cercare insieme di razionalizzare Questi interventi E lo vorremmo fare secondo due linee La ragione della nostra riunione Uno, con gli enti locali Per cercare di programmare insieme Gli interventi sul territorio Per mettere insieme le risorse disponibili Qualunque sia la loro quantità Se a quello che noi possiamo erogare sul territorio Aggiungiamo qualche altra cosa Comunque sicuramente diamo un vantaggio Dall'altro per dialogare con le associazioni Per costruire dei programmi di attività Delle associazioni che siano focalizzate Sui bisogni fondamentali Ecco, avete già individuato Più o meno quali sono le priorità Su cui vi concentrerete? Io credo che le priorità sono L'assistenza alle categorie deboli Che direi è la priorità Delle priorità In questo momento storico Garantire la continuità Delle attività culturali Che si svolgono sul territorio Che sono una ricchezza del territorio Che in questo tra l'altro È veramente ricco di iniziative E anche di iniziative Di buona e ottima qualità Partirà regolarmente questa sera Al Cineteatro Comunale di Teramo La stagione di prosa Della Società della Musica E del Teatro Primo Riccitelli Questa mattina La Commissione Pubblico Spettacolo Che ha effettuato un sopralluogo Ha dato l'ok Alla riapertura del Cineteatro La struttura era chiusa da mesi Per lavori di adeguamento sismico Soddisfatto il sindaco Maurizio Brucchi Che ha detto In molti temevano Che non arrivassimo in tempo Ma avevamo promesso Che avremmo concluso i lavori Per questa data E così è stato Adesso un esempio Di malagestione dei soldi pubblici All'ospedale di Giulianova Per il trasporto dei pazienti Si utilizzano le ambulanze E non il tunnel sotterraneo Vediamo Questo non è il corridoio di Shining Però è un corridoio lunghissimo Questo è il tunnel Che mette in comunicazione I due padiglioni Dell'ospedale di Giulianova Padiglione Est E padiglione Ovest Vediamo un po' che c'è di qua C'è una biforcazione Sì sono due Eccoli qua Quindi i tunnel sono due Perché ce li stiamo occupando? Perché una volta Fino alla fine La metà degli anni 80-85 I tunnel servivano Per il trasporto dei malati Da un padiglione all'altro Chi doveva sottoporsi A un esame radiologico Attraversava questo tunnel In barella Oppure si stava bene Anche a piedi Oppure purtroppo Anche su una sedia a rotelle Era questo L'unico passaggio Improvvisamente Alla fine degli anni 80 Questo tunnel Che come le riprese Vi fanno vedere È in ottime condizioni È stato abbandonato Cioè non ci si serve più Di questa struttura Per trasportare i malati Da un padiglione all'altro È stato deciso Una convenzione Con una società Di ambulanze Che trasporta Ripetutamente Gli ammalati Da una parte all'altra Quando devono sottoporsi A degli esami Che non stanno Che non si possono fare Nel plesso Dove loro sono ricoverati Ecco il tunnel Che continua A lungo Poi arriverà Sfocerà Alla fine Ma è Lo avete potuto vedere Mi pare In ottime condizioni Il tunnel Questo permette Ancora permetterebbe Di trasportare I malati In barella Senza la necessità Di dover ricorrere All'ausilio Delle ambulanze Che costano Ovviamente Un servizio Per trasportare I malati Da una parte all'altra Cioè 20-25 metri Con tanti soldi Da spendere Mentre potrebbe Secondo noi Benissimo Essere riutilizzato Questo tunnel Che non è Non fa paura Non è quello Di shining Sicurezza E ottimizzazione Di alcune corse Del trasporto Pubblico locale In particolare Delle linee 6 e 7 Questo l'obiettivo Dell'assessore Del comune di Teramo Giorgio Di Giovan Giacomo Il servizio Con i rappresentanti Sindacali Della Valtur Avete fatto il punto Per ottimizzare Alcune corse urbane In particolare Alcune fermate Della CONA Ma anche le linee 6 e 7 Che avevano bisogno Di una messa a punto Sì Sono emerse alcune cose Abbiamo messo Alcune situazioni Che vanno Nell'ottica Della sicurezza Soprattutto Delle fermate E l'ottimizzazione Di alcune corse Soprattutto La linea 6 e 7 E il capoligno Della CONA Dunque abbiamo affrontato Insieme a loro Come promesso Insieme al prefetto Queste problematiche Alcune abbiamo Già trovato la soluzione Nei prossimi giorni Attueremo Soprattutto Il capoligno Della CONA Con alcune Modifiche strutturali Per rigirare In sicurezza Il bus Per quanto riguarda La linea 6 e 7 Il 20 avremo Un incontro Un giro tecnico Insieme a loro Con un pullman In servizio Per provare Alcune soluzioni Soprattutto Per quelle che ci chiedono Gli studenti A Colle Parco E alla stazione E vedremo Di dare una risposta Positiva Anche a queste problematiche Che ci sono da anni Gli studenti chiedevano Di risparmiare Il passaggio Che passava Per la vecchia menza Dal momento Che è stata trasferita Sul campus Di Colle Parco E di mettere Anche in sicurezza Le fermate Alla stazione Sì Quella è una cosa Sicuramente fattibile Già l'ho verificata Di persona La giornata Che sono andata Insieme a loro Sopr al pullman Per esempio Ieri abbiamo Avuto un incontro Con i cittadini Di Via Dalbens Dove abbiamo Individuato una soluzione Dunque tutte le risorse Che noi andiamo Ad ottimizzare Le risparmeremo Sulla città Per dare risposta In quelle zone Dove attualmente Abbiamo delle problematiche Quindi ripristinerete Delle corse Su Via Dalbens Via Dalbens Ieri è emersa Una situazione Adesso la Baltur Le sta valutando E vediamo Se la fattibilità Economica e tecnica Dia la possibilità Di ripristinare Le corse Su Via Dalbens Anche il Movimento 5 Stelle Punta l'indice Contro l'amministrazione Di Teramo Che ha riservato Scarsa attenzione Agli interventi Post-sisma Sugli edifici In particolar modo Il comitato di Torre Bruciata Chiede un intervento Immediato Per la caduta Di alcuni cornicioni Il consigliere Fabio Berardini Torna anche Sulla questione Degli scuola Bus Sentiamo Dopo le polemiche Sollevate dal PD Sullo stallo Delle pratiche Del sisma Anche il Movimento 5 Stelle In calza L'assessore Rodisi Stefano Su questo tema In particolare Voi avete raccolto L'enamentelle Di alcuni cittadini Dopo la caduta Di un cornicione In Via Torre Bruciata Esatto È pervenuta A noi Una richiesta Un'interrogazione Da parte Di un comitato Torre Bruciata Che lamenta Proprio anche La caduta Di un cornicione Di un edificio Terremotato E richiede Un sopralluogo Urgente Da parte Degli addetti Dell'amministrazione E coglie E coglie anche Il pretesto Per chiedere Lo stato Di avanzamento Di queste pratiche Le pratiche Per risarcimento D'anni Provocati dal sisma In quanto Dette pratiche Erano state inviate A una società All'Aquila Che poi però È fallita È stata chiusa E le pratiche Sono tornate Al comune Di Teramo Ovviamente Queste persone Vogliono delle risposte Perché ovviamente Sono diversi anni Che il comune Non fornisce Alcuna risposta E insomma Questi edifici Sono diventati Pericolanti E sono un problema Per l'incolumità Pubblica Voi sollevate Problemi Perplessità Anche in relazione Alla messa in vendita Di alcuni scuola bus Sì abbiamo visto Che sono stati messi In vendita Un paio di scuola bus In condizioni discrete E quindi Noi pensiamo Che se il comune Non ha ancora deciso Cosa fare Del servizio scuola bus Il prossimo anno Non capiamo Perché Siano stati messi In vendita Dei pulmini Messi in buone condizioni Perché comunque Potrebbero servire Per effettuare Il servizio L'anno prossimo Ecco Noi interrogheremo L'assessore competente Su questa vicenda La ditta Frat Arcangeli Nel mirino Dell'opposizione Anche nel comune Di Silvi La ditta Di Frosinone Gestisce anche A Silvi Il servizio scuola bus E i consiglieri Di opposizione Attaccano L'amministrazione Perché non è stata In grado Di dimostrare Se i mezzi Abbiano circolato O meno Con la revisione Scaduta Per questo La minoranza Chiede le dimissioni Dell'assessore All'istruzione Sta valutando L'opportunità Di inviare Un esposto Alla procura Il servizio Non c'è pace Tra gli scuola bus Della Frat Arcangeli I guasti E i problemi Che hanno interessato I mezzi In questi ultimi mesi Non riguardano Solo il comune Di Teramo Ma anche Quello di Silvi Dove la società Di Frosinone Gestisce come a Teramo Il servizio Di trasporto Dei bambini E a Silvi E a Silvi Come a Teramo La minoranza Attacca A circa un mese Dalla vicenda La maggioranza Non è ancora In grado Di dimostrare Se gli scuola bus In servizio A Silvi Abbiano circolato Con la revisione Scaduta Mettendo quindi A rischio La sicurezza Dei bambini Degli autisti E degli accompagnatori Lo afferma Il capogruppo Di Silvi Bellissima Michele Cassone Che insieme Agli altri consiglieri D'opposizione Enrico Marini Alessandro Valeriani Di Uniti Per Silvi Luciana Di Marco Dell'NCD Enzo Di Sidoro Di Silvi Bellissima E Ferruccio Benvenuti Di Forza Italia Torna sulla vicenda Della sicurezza Degli scuola bus Cittadini Che avrebbero circolato Senza revisione Senza documenti E senza targhe Non è stato chiarito Sostengono ancora I rappresentanti Dell'opposizione A Silvi Se gli accompagnatori Siano coperti Da assicurazione O meno E soprattutto Se i mezzi Sono sicuri Al 100% Visto quanto Accaduto L'opposizione Chiede le dimissioni Dell'assessore All'istruzione Del comune di Silvi Maria Grazia Marinelli Dopo le prime polemiche Sulla vicenda La minoranza Ha chiesto ed ottenuto Un consiglio comunale Straordinario Che si è svolto ieri Nel corso della seduta Si è parlato per tre ore Del servizio scuola bus A Silvi L'opposizione ha chiesto Una revisione straordinaria Di tutti i mezzi Che verrà eseguita Per garantire A genitori e autisti La tranquillità necessaria Ma le richieste Dell'opposizione Non si fermano qui Infatti Oltre a richiedere Le dimissioni Dell'assessore competente Si sta valutando L'opportunità Di inviare Un dettagliato Esposto Alla procura Della Repubblica Era presente In veste istituzionale Anche il sindaco Di Castellalto Vincenzo Di Marco All'inaugurazione Del nuovo supermercato Sigma Per sottolineare L'importanza Che questa struttura Avrà in termini Occupazionali E imprenditoriali Il servizio Vado E' stato inaugurato Questa mattina Castelnuovo Vomano Un nuovo supermercato Sigma Trenta nuovi posti Di lavoro Per un investimento Di circa Due milioni di euro Un segnale positivo Per il territorio Che fa ben sperare In particolare Il sindaco Vincenzo Di Marco Sottolinea La vocazione Imprenditoriale Del luogo E l'intenzione Di favorire Grazie a sconti Sulla tassazione L'ingresso Nel territorio Di nuove attività Imprenditoriali Abbiamo questa vocazione Siamo un bacino Di utenza naturale Di circa 50 mila Abitanti Perché se contiamo Che i nostri Esercizi commerciali Vengono anche visitati Da amici e cittadini Della vallata Delfino Possiamo tranquillamente Dire Ecco che Sono molte Le persone Che ogni giorno Vengono qui Questo investimento Oggi Questa apertura Con questo grosso investimento In qualche modo Ci dà un po' di sollievo C'è un po' di sollievo Perché significa Che ci sono Due imprenditori Che investono Due milioni di euro In un territorio Provocano La creazione Di circa 30 posti Di lavoro E in qualche modo Rilanciano In questo periodo Di crisi Quella che è La sfida Del crederci E di voler Portare avanti Uno sviluppo Del territorio Che in questi anni Si è un po' Fermato Tant'è che ci stiamo In qualche modo Anche inventando Facendo Girare la fantasia Nel provocare Anche degli sgravi In termini di Onere di costruzioni E tassazioni Ad esempio Per le nuove attività Ma anche Soprattutto per chi Riutilizzerà Capannoni Chiusi E chi avvierà Nuovi rami D'azienda Nei capannoni Esistenti Perché crediamo Che chi fa Investimento E chi fa Occupazione Vada tutelato Oggi più che mai E adesso la rubrica Carta canta Di Giancarlo Falcone Tutti noi ce la prendiamo Con la storia Ma io dico Che la colpa è nostra Evidente che la gente Poco sedia Quando parlo Di sinistra Destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra sinistra Destra sinistra Destra sinistra Destra sinistra Destra sinistra Basta Ventesima puntata Di Carta canta Oggi parliamo Degli scuolabus Non è un argomento Scontato Perché c'è una novità Una notizia clamorosa Di scuolabus Non parleremo Delle gomme lisce Della perdita di carburante Di questi anni In cui si è staccato Anche un sedile Durante la marcia Non parleremo Dei vetri Che fanno entrare L'acqua Non parleremo Di quante volte Ho dato il telefonino Ai ragazzini Per fare le foto Durante i loro viaggi No Lasciamo perdere Andiamo avanti Perché altrimenti L'assessore Romanelli Parla di suggestioni Parla di strumentalizzazione Iniziamo la storia Dal 2008 Quando fu scritto L'appalto Cosa molto Ma molto importante Il punto D Di impegnarsi A custodire i mezzi In un locale idoneo Per la rimessa E la cura Degli stessi Distante Non oltre Attenzione 15 km Del centro Della città di Teramo Intendosi per tale La sede Municipale Sita In Piazza Orsini Dal 2008 Passiamo Al 2011 C'è la determina Che affida Il servizio scolastico In primo tempo Vince La ditta Falaschi Luca SRL Poi ci furono Tutti i vari Ricorsi Al Tar Fino ad arrivare L'aggiudicazione All'attuale ditta Il turismo Frat Arcangeli Cocco Di Cocco Frat Arcangeli Di Frosinone Ricordatevi Perfetto Si stipula il contratto Si firma la convenzione E Frat Arcangeli Quindi firma anche Il solito punto importante I mezzi Dovranno essere custoditi In un locale idoneo Per la rimessa Da cura Degli stessi Distante Non oltre 15 km Dal centro Della città Ritorna Questo concetto Iniziano Le interrogazioni Dell'ex capogruppo Del partito Democratico Giovanni Cavallari E noi la seguiamo Prendiamo macchina fotografica E tutto il resto E andiamo alla ricerca Dei mezzi Custuditi Ricordatevi Il punto D Dalla convenzione Dal primo giorno Dal secondo giorno Dal terzo giorno Erano custuditi Lì Verso la strada Del Magnanella Dove c'è La sede Della Staur Tutti fuori I mezzi Anche per strada Pubblichiamo Le fotografie Sul sito Le Banane E andiamo avanti Spariscono da lì Vengono messi In campagna Pubblichiamo Le fotografie Dei mezzi Lasciati lì In mezzo Alla terra Al fango Vicino al bocciodromo A Teramo Di mezzanotte Pubblichiamo Le foto Spariscono Vanno sotto I garage Degli parcheggi Teramani Fino alla piazza San Francesco Non rispettando La convenzione Siamo sicuri Che il comune Di Teramo Avrà multato La ditta Fradalcangeli Da praticamente La primo giorno Dell'appalto Giusto? Siamo sicuri? Ma la cosa grave È qui La cosa grave È la proroga Il proroga Ha firmato Con un atto Di giunta Attenzione Comunale Quindi gli assessori E domani vi leggeremo Chi ha firmato Questo atto Numero 268 Del 31 07 2014 E vi leggo La determina Derivata Da questo atto Di giunta Per le motivazioni Espresse in narrativa E che qui si intendono Indegalmente Riportate Attenzione Stessi itinerari Delle stesse linee Di percorrenza Senza La necessità Di totarsi Di un deposito Per il ricovero Degli stessi Con questo atto Si favorisce La ditta Fradalcangeli In questi anni Dovranno avere Un garage Un'auto Rimessa Per i mezzi Non hanno rispettato La convenzione E noi con questo atto Diamo la possibilità Fradalcangeli Di andare avanti Senza rispetto Della convenzione In Italia E anche a Teramo A volte Come diceva Enzo Biagi Il colpevole Non è chi commette il reato Ma chi lo denuncia Carta canta E adesso vediamo Che tempo farà Nelle prossime ore Con le previsioni Di Meteoteramo.it Previsioni per oggi In Abruzzo Nel pomeriggio Moderatamente nuvoloso Sulle zone appenniniche Sereno sulle zone costiere In serate nella notte Poco nuvoloso Sulle zone interne E sui rilievi Sereno sulle zone marittime Temperature stazionarie Massime comprese Tra 14 e 17 gradi Nelle conche Aquilane e Marsicane Tra 18 e 21 gradi Sulle piondure adriatiche Venti deboli O moderati settentrionali Mari calmi In provincia di Taramo Al pomeriggio Moderatamente nuvoloso Sui settori appenninici Poco nuvoloso Sui settori costieri In serate nella notte Poco nuvoloso Temperature stazionarie Massime comprese Tra 17 e 20 gradi Nelle pianure Delle introterra Tra 18 e 21 gradi Sulle coste Venti deboli O moderati settentrionali Mari calmi Siamo allo sport Iniziamo con il calcio In casa Teramo Persistono i dubbi Attorno alle condizioni fisiche Di Gianluca Lapadula L'attaccante Che da un mese e mezzo È tormentato Da un problema Al tendine del ginocchio Ha saltato la partitella In famiglia Disputata ieri pomeriggio I prossimi allenamenti Saranno decisivi Per sciogliere le riserve Sulla sua presenza In campo Nel match Con la Reggiana Nel frattempo Domenica scorsa Di Paolo Antonio Ha messo a segno Il suo primo gol stagionale Direttamente da calcio d'angolo Ai nostri microfoni Il centrocampista Si è detto molto soddisfatto Perché la sua rete È servita al Teramo Per vincere la partita E scacciare Il fantasma della crisi Ascoltiamolo Di Paolo Antonio Questo primo gol stagionale Si è fatto attendere molto Finalmente adesso è arrivato Sì finalmente è arrivato Ci teniamo molto a segnare Sicuramente è stato anche Abbastanza importante Perché non venivamo da Venivamo da cinque gare Un po' difficili Tre punti solo raccolti Quindi anche se è arrivato Fortunamente L'importante è che è arrivato E che ci ha permesso Di raggiungere i tre punti Che erano la cosa fondamentale È stato un gol alla palanca Direttamente da calcio d'angolo È stato mai stato Più un merito di Di Paolo Antonio O un demerito del portiere del San Marino? Ma è merito mio Alla fine perché ho tirato Poi comunque Anche loro ci hanno messo Ci hanno messo del proprio Perché comunque sul calcio d'angolo La palla era sul primo palo Di solito tutti i portieri Mettono un uomo sul primo palo Non so cosa è successo Però buon per noi Che abbiamo raggiunto Il gol dell'1-0 Poi è stato bravo anche Alfredo A procurarsi il rigore E a fare il 2-0 A mettere un po' la partita Sotto occhio A San Marino È arrivata una vittoria Con il nuovo modulo tattico Siete passati dal 4-4-2 Al 3-5-2 Per te che cosa cambia Lì al mezzo? Diciamo che abbiamo avuto Anche poco tempo Per prepararci Perché comunque abbiamo avuto Una settimana Per cambiare modulo Per me cambiano molte cose Perché comunque essendo un esterno Mi trovo molto largo Nel campo Però da centrocampista Adesso prendo molti più palloni Sono più nel vivo del gioco E quindi mi piace molto Giocare a centrocampo E spero di giocarci anche sabato Perché è un ruolo che mi piace Hai parlato della partita di sabato Sabato si torna appunto Qui allo stadio comunale Là dove il pallone scotta Il pallone scotta Il pallone innanzitutto Non deve scottare Dobbiamo aver voglia di giocare Perché altrimenti Non si fanno buone prestazioni E la gente comunque Sono sicuro che ci darà una mano Perché in questo momento Non abbiamo bisogno Poi alla fine Se la gente fischia Non ci può stare Perché comunque Pagano il biglietto Possono dire ciò che vogliono Però speriamo di Speriamo di regalargli Una bella prestazione Così che i fischi non ci siano E ci siano solo applausi E adesso la palla a mano Iniziamo con quella femminile Questa mattina Bigliane Megjedovic Si è aggregata Alla rosa della Globo Allianz Teramo L'esperta giocatrice Che vanta una lunga esperienza Con le maglie di Enna Messane Palermo Sarà a disposizione Del tecnico Massotti Già dalla prossima partita Di campionato Lo scontro al vertice In casa del Conversano Turno infrasettimanale Fortunato E parliamo di Palla a mano maschile Per la Allianz Teramo Ieri sera I ragazzi di Fonti Hanno battuto in casa Il Camerano Con il punteggio finale Di 38 a 17 Tra i biancorossi Da segnalare La prestazione Di Riccardo Di Giulio Autore di 17 reti Con questa vittoria La Allianz È salita a 9 punti Agganciando al secondo posto In classifica I cugini del Tinteramo Sarà la campionessa mondiale Di ginnastica ritmica Fabrizia Dottavio La protagonista Di domani È già qui Progetto ideato Dal CSI Abruzzo Per favorire La coesione sociale Attraverso la promozione Dello sport Nella scuola primaria A tal fine L'atleta teatina Incontrerà gli alunni Di quattro istituti Delle province di Teramo E l'Aquila Si comincia domani Due gli appuntamenti In programma Alle 11 Nella palestra Della scuola Di Villa Zaccheo Poi nel pomeriggio Alle 14 e 30 Nella palestra Del plesso Di Ripattoni Dell'istituto comprensivo Saliceti Di Bellante E con questo è tutto L'informazione su Teleponte Torna alle 19 e 15 Grazie per l'attenzione Buon pomeriggio Grazie per la visione